Il Caldaro con 8 punti all'attivo e al sesto posto della classifica ospita il sorprendente Merano secondo dopo il primo girone d'andata con 14 punti al pari di Appiano e Milano. Tre settimane fa la scuola di McKay si era imposta nella prima di campionato per 3-1. L'incontro inizia con un minuto di raccoglimento in memoria del motociclista Marco Simoncelli tragicamente deceduto in un incidente nel Gran Premio di Malesia. Al quarto minuto di gioco il Merano prova a sfruttare una superiorità numerica con Armin Ambach e in panca dei puniti il disco arriva Daniel Rizzi fermato dal portiere di casa Massimo Camin. Poi l'azione prosegue e ci prova anche Victor Valleib con un tiro dalla blu. Camin para di nuovo ma non trattiene ed è fortunato con il pack che sfiora il palo. Cinque minuti più tardi sono invece i padroni di casa a capitalizzare al meglio un powerplay. Con Alex Rottensteiner in panca puniti il disco arriva a Dante Hilden che fulmina il portiere Corsi con una botta dalla blu. Per il trentenne attaccante finlandese è il quarto gol stagionale particolarmente ispirato contro la sua ex squadra. Ad otto secondi dal primo intervallo il Caldaro va vicino al raddoppio con un tiro dalla blu di Thomas Valtaler che Charles Corsi va a deviare non senza difficoltà sul palo. Dopo venti minuti il risultato è perciò di uno a zero in favore dei Lucci. Il periodo centrale inizia con una nuova occasione per Valtaler che servito da Alexander Frye si fa parare il suo tiro da Corsi che devia oltre la traversa. Un minuto più tardi il Merano pareggia in inferiorità numerica con Kobler sempre in panca dei puniti Gunnar Braito serve in contropiede Oliver Schenck il quale insacca l'uno a uno. Per il ventottenne ex Vipiteno si tratta del terzo gol stagionale anche il primo lo aveva segnato contro il Caldaro. I padroni di casa subiscono il colpo ed incassano solo 62 secondi più tardi il 2 a 1. Alexander Rottensteiner va via di forza e serve il disco al centro per Gunnar Braito che trafigge Camin. In un minuto il Merano gira la partita passando dallo 0-1 al 2-1 in proprio favore. Per l'ex attaccante cardenese è il quarto sigillo in campionato. Il Merano insiste al 29esimo sfiora il terzo gol con un veloce contropiede portato avanti da Thomas Mitterer che vede Tyler Miller solo al centro ma la conclusione del difensore statunitense viene fermata da Camin. Al 35-43 Donald Nichols commette fallo su Rottensteiner e l'arbitro Giorgio Moscaen lo manda fuori per due minuti. Il difensore canadese non pare del tutto d'accordo. Gli ospiti approfittano della superiorità numerica e passano per la terza volta. Mitterer serve Alexander Rottensteiner che sorprende Camin al 37-32 con un tiro angolato che vale il 3-1. L'ex attaccante del Renon che ha iniziato la stagione a Torrepellice è passato successivamente in prestito al Merano. Realizza così il suo primo gol in questo campionato di A2. Poco prima dell'intervallo gli ospiti potrebbero segnare ancora ma Michael Simmons smarcato da Brighto spreca da solo davanti a Camin. Periodo centrale comunque dominato dal Merano che ribalta il risultato e conduce dopo 40 minuti per 3-1. Nel terzo tempo però la musica cambia. Il Merano sembra sentire la fatica mentre il Caldaro schiaccia gli avversari nella propria difesa. Al 43-41 l'ex anti-Hilden fa tutto da solo, aggira la porta di corsi e poi sorprende il giovane portiere italo-canadese con un tiro angolato per il 3-2. Partita riaperta dunque con quasi 17 minuti ancora da disputare. Al 48esimo sortita di Alexander Frey che perde il disco ma c'è Raffael Andergassen a recuperare. Tiro dalla blu, ottima la parata, i corsi. Il pareggio arriva al 49-22 grazie ad Armin Ambach. Servito da Alex Andergassen, il capitano dei Lucci, si gira ed insacca il 3-3. Per il 29enne è il sesto gol stagionale in sette partite. Da sottolineare come Ambach abbia fatto punti in tutti gli incontri disputati quest'anno. Al 53esimo ancora il Caldaro con il sempre vivace e velocissimo anti-Hilden che servito da Andergassen spara addosso a corsi. Il trentenne di Tampere è il grande protagonista della partita contro i suoi ex compagni di squadra. Hilden in 95 partite di A2 con il Merano e il Caldaro ha realizzato esattamente 200 punti e 72 gol. I tempi regolamentali si chiudono sul 3-3. I due allenatori, Leiland da una parte e McKay dall'altra, preparano le loro squadre per l'overtime. Anche i supplementari padroni di casa dominano la partita ma la migliore occasione da gol capita al Merano con Alex Rottensteiner e sulla ribattuta con Gunnar Braito che però non riescono a segnare. Si va così ai rigori. Anti-Hilden realizza il primo penalty. Successivamente sbaglia per il Merano Daniel Rizzi. Bellissima poi la realizzazione di Dan Nichols. Michael Simmons risponde mantenendo il Merano in partita. Successivamente sbaglia per la prima volta anche il Caldaro con Capitano Armin Ambach che colpisce la traversa. Il match si decide così all'ultimo penalty con l'errore di Alex Rottensteiner che regala di fatto la vittoria al Caldaro per 4-3. I Lucci si prendono così la rivincita per la partita persa all'andata. Grazie. 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 Grazie.